Polaroid presenta la fiera del paese 43 Ehi bambini guardate Visto che gelato Quanto grande Beato lui Mamma che fa' quell'uomo lassù? E' l'albero della cuccagna E che è? Chi riesce ad arrivare in cima si prende tutto quello che vuole Il prosciutto, il vino, le sas... Ah, è scivolato Adesso tocca a me Che adesso la fitte e la cuccagna? Se prendo quel prosciutto invito tutti a cena Pure te ragazzino Buona fortuna Vado ragazzino Dai, preghi! Dai, preghi! Dai, preghi! Dai, preghi! Dai, preghi! Ehi, preghi! Ehi, preghi! Ehi, preghi! Ehi, preghi! Preso! Eccolo! Ah, 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 ah! Bene, ce l'abbiamo fatta! Hai visto, mi hai portato a fortuna! La macchina fotografica Polaroid vi dà in pochi secondi le foto già pronte Ecco qua, ogni promessa è venuto Questo a te che mi hai portato fortuna Coraggio vai, porta la mamma e papà Con tanti auguri da parte di Peppino Papà, guarda Grazie, andiamo con quella torta Che beve, arriva lo spumante Certo, questo l'offro io, omaggio della vita Lei ha offerto il vino, io offro la musica E adesso una bella foto che sarà pronta in pochi secondi Inquadrate, scattate ed estraete la pellicola Ora la foto si sta sviluppando proprio qui Solo la macchina fotografica Polaroid vi dà le foto in bianco e nero in pochi secondi E a colori in un minuto Macchine fotografiche Polaroid Per il colore lire 19.900 Per bianco e nero, ora da lire 9.900